Juventus, Diallo ha dato il suo ok, i dettagli. La sessione invernale di calciomercato entra sempre più nel vivo. Tra i club che si muovono sul mercato c'è anche la Juventus, che sta lavorando per rinforzare la difesa. Diallo ha dato l'ok alla Juventus. Il nome caldo in casa Juventus è Tiago Diallo, difensore centrale portoghese di proprietà del Lille in scadenza di contratto a giugno 2024. Il 23enne ha dato l'ok ai suoi agenti per trattare con il club bianconero, ora va trovato l'accordo. Era questo il nodo dell'affare perché il portoghese aveva dato priorità all'Inter perché il club nerazzurro si era mosso in anticipo rispetto alla Juventus. Per avere Diallo da subito, i bianconeri daranno un indennizzo al Lille. Si attende un'eventuale controproposta dell'Inter. Ma la Juventus è attiva anche in uscita. A sbloccare la trattativa di Allò, infatti, è una cessione. Il club bianconero è vicino a cedere Filippo Ranocchia al Palermo. Il centrocampista classe 2001 terminerà il prestito all'Empoli ed è molto vicino ai Rosa Nero, sullo sfondo anche il Como Interessato.